salve a tutti in un precedente video vi avevo spiegato come compilare sull'agenzia delle entrate il quadro rv per la vostra situazione cripto qualcuno mi ha scritto nei commenti se era possibile stampare una ricevuta dell'invio del quadro rv francamente non mi ricordavo come avevo fatto perciò oggi sono rientrato nella mia pagina anche a voi dovrebbe presentarsi così l'home page dopo che siete entrati con il vostro speed ovviamente col vostro nome e il codice fiscale a questo punto qui dovreste leggere hai scelto di modificare modello red di persone fisiche aggiuntivo correttivo io parlo nel mio caso cioè io ho spedito il 730 da qui se anche voi siete riusciti a raggiungere il quadro rv pur non avendo compilato il 730 dal sito penso che ci sia lo stesso una cosa del genere che riguarda il quadro rv altrimenti non so dirvi altro perché non ho la situazione di una persona che non ha compilato il 730 online magari a un caf o da un commercialista però so che esiste una procedura anche in quel caso ho parlato con un collega che mi ha spiegato che basta registrarsi con un email o roba simile comunque bisogna entrare con lo speed e tramite quello si riesce ad arrivare a quadro rv cercherò di farmelo spiegare direttamente da questo collega proprio perché io non lo posso fare dalla mia home page comunque io clicco su compil invia e mi ritrovo sul punto dell'altro video cioè quando ho compilato il quadro rv qui potete vedere quadri con dati compilati il frontespizio quindi con tutti i miei dati personali e quadri compilati al precedente invio comunque se a noi interessa solamente stampare quello che abbiamo compilato non serve andare a cliccare su compil invia ma direttamente su dichiarazione inviata qui possiamo praticamente cliccare su modello pdf e quindi scaricare il pdf e stamparlo qui ovviamente avrete i vostri dati cognome nome e il vostro codice fiscale e scendendo giù troverete il quadro rv che avete compilato a questo punto potete stamparlo e lo tenete per voi perché l'avete già inviato e per me questo è tutto non so darvi ulteriori informazioni proprio perché non sono un commercialista io vi mostro solo quello che io faccio direttamente dopo accurati studi ma comunque sono cose che faccio io quindi prendetele sempre con le dovute precauzioni io sicuramente cerco di non sbagliare però è ovvio che se avete dei dubbi finché io vi posso aiutare va bene però di più non posso fare e se un giorno qualcuno ha sbagliato purtroppo non è colpa mia io cerco solo di darvi una mano nel migliore dei modi anche perché c'è tantissima gente ma anche tanti commercialisti tanti caff che non sanno bene come muoversi su questo argomento e ripeto sempre se avete tanti soldi in cripto o comunque monete estere roba del genere non fate da soli cercate di affidarvi a qualche commercialista ovviamente tanti soldi sempre intendo oltre 51 mila in realtà anche 30 mila 40 mila anche se poi non pagate le tasse sempre meglio affidarsi a qualcuno che conosce la materia e che magari in un futuro vi può tutelare nel caso di controlli nel mio caso si parla di spiccioli e quindi riesco tranquillamente a gestire la cosa da solo ed è anche difficile che mi facciano un controllo però se lo fanno io sto a posto ho tutte le foto tutti gli excel tutti i tabulati che mi permettono di stare tranquillo io vi ringrazio tanto per l'attenzione mi raccomando iscrivetevi al canale magari mettete un like condividete e noi ci vediamo al prossimo video